Io sono Francesco Ramacieri, quindi sono il titolare di questa azienda agricola, si trova nell'agro di Casacarenta, quindi è un'azienda apprettamente, principalmente cerealicola, con all'interno pulivi, un vigneto e negli ultimi anni però ho inserito alcune culture, quali il meleto. 20 anni fa, 30 anni fa era un passare e prolicare di agricoltori per le campagne, adesso c'è un vuoto. Attualmente è interessata da queste aree protette, ZPS, SIC e quant'altro ci sono. Benefici attualmente di ordine economico non ne ho intravvisto l'utilità in questo senso, anche se il futuro, l'ordinamento europeo parla di misure che vanno sempre verso il rispetto dell'ambiente, dei finanziamenti sempre che vanno verso questo lato qui. Tramite anche un finanziamento regionale, il PSR, ho acquistato una seminatrice su sodo e quindi sto coltivando cereali su sodo. La struttura dei finanziamenti per accedere ai finanziamenti è ben definita, però devo riscontrare che nella Regione Molise c'è una lungaggine per ottenere questi finanziamenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.